Un nuovo modo di vivere le emozioni delle Dolomiti, il piacere di essere immersi nella natura camminando lungo i sentieri del patrimonio mondiale Unesco, senza rinunciare alle comodità di un pernottamento in paese, con tutto il comfort a portata di mano. L'interesse comune è quello di valorizzare la montagna nella sua versione estiva e di proporre un qualche cosa che risponda a dei trend che sono chiaramente presenti nel mercato, che appunto sono i trend dell'attività, attività anche impegnativa, ma che ha questo contraltare appunto nel fatto che quando l'attività è terminata si cercano comunque i comfort e le comodità delle strutture ricettive di alta gamma, diciamo così, 3-4 stelle. E la novità è anche il fatto che noi rispondiamo a questo trend di percorsi escursionistici di più giorni, quindi le persone percorrono 10-15-20 km in una giornata, fanno anche 1000 metri di dislivello, ma poi il giorno dopo ricominciano. L'obiettivo di questo progetto è proprio quello di valorizzare anche quelle località che forse sono meno visitate, che sono meno all'interno dei percorsi più classici e noi abbiamo previsto in un arco temporale di tre anni di creare tre percorsi, il primo è partito quest'anno e andremo a toccare sicuramente quei posti che sono altrettanto belli, altrettanto paesaggisticamente accattivanti, ma che sono forse meno visitati perché meno conosciuti. A noi interessa proprio cercare di distribuire le persone e far conoscere anche questi posti. Dolomites Ronda si inserisce nelle proposte di Dolomiti Super Summer, la versione estiva di Dolomiti Super Ski. Dolomites Ronda è un nuovo prodotto per l'estate ed è un'iniziativa congiunta di Dolomiti Super Ski, nella sua versione estiva Dolomiti Super Summer, IDM Suttirole e Trentino Marketing, con la collaborazione di un tour operator austriaco, ASI, Alpinschule Innsbruck.